A partire dal prossimo 3 maggio le imbarcazioni che fanno parte del consorzio Coggevo Abruzzo torneranno in mare per la pesca delle vongole nel medio adriatico dopo 45 giorni di fermo, in parte volontario e in parte obbligatorio, ma il grande lavoro portato avanti dal consorzio potrebbe essere in parte vanificato secondo il presidente del Coggevo di Mattia, se la regione non cambia i punti di prelievo della sabbia individuati per dar corso ad una serie di attività di ripascimento sul litorale abruzzese, punti che secondo il Coggevo non devono essere assolutamente toccati perché rappresentano un importante bacino per la pesca delle vongole e con il prelievo di sabbia verrebbero spazzate via in maniera definitiva. Voglio precisare che il Coggevo Abruzzo non è stato mai contrario al ripascimento perché comprendiamo bene le esigenze dei balneatori. Noi abbiamo sempre contestato le zone di prelievo, abbiamo sempre sostenuto che debba essere fatto ad un miglio e mezzo dalla costa, abbiamo sempre chiesto un incontro per trovare una soluzione al problema. Quello che spiace è che loro hanno individuato queste zone senza una concertazione con il Coggevo Abruzzo, tant'è vero che le conferenze regionali della pesca per due volte hanno espresso parere negativo. inoltre la verifica preliminare sulla presenza delle vongole fatte dalle opere marittime risulta sbagliata in quanto non è una verifica basata su elementi scientifici ma solo su supposizione. Con l'Istituto Zooprofilattico abbiamo provveduto noi ad andare in questo sito ed abbiamo visto, abbiamo evidenziato una massiccia presenza di vongole. Quindi una relazione scientifica che smentisce la verifica delle opere marittime. Noi alla ripresa del 3 maggio in quelle zone andremo a pescare. Sono zone pescose e non si può permettere di distruggere un'attività sana come quella del Coggevo Abruzzo che in questi anni abbiamo sopperito alla perdita dell'aria marina protetta a un territorio pescoso. Avevamo trovato una soluzione per compensare questa perdita ed ora vogliono, intendono prelevare la sabbia, non solo la sabbia, andranno a prelevare le vongole e buttarle sulla batiglia.